E' sempre più allarme e sicurezza nel centro di Battipaia. I ladri mercoledì sera sono riusciti a rubare oggetti di valore e denaro per circa 6.000 euro. I proprietari delle abitazioni svaliggiate in via Mazzini e via Baratta si sono accorti di quanto accaduto solo al loro rientro ed hanno allertato le forze dell'ordine. Porte sfasciate e sistemi d'allarme mandati in tilt. I malviventi, sicuri dell'assenza dei proprietari, hanno bloccato gli impianti di antifurto iniettandovi acqua con delle siringhe. In un caso hanno aperto la porta dell'abitazione e poi ripulita con una copia delle chiavi, probabilmente realizzate poco prima di mettere a segno il furto. In un palazzo a Viale della Libertà sono state forzate le porte di due appartamenti, ma qualcosa non deve essere andato per il verso giusto e i ladri sono fuggiti senza bottino. I cittadini sono sempre più preoccupati per questo fenomeno che si diffonde a macchia d'olio e non da scampo. Si chiede maggiore pattugliamento per le strade, ma per adesso si contano solo i danni. Grazie a tutti.